Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita Oggi siamo su Zonepiercer Un gioco che mi ha regalato il grandissimo Ivan Di Pietro E lo ringrazio davvero davvero tanto Era uno dei giochi che avevo nella lista dei desideri di Steam E me lo ha regalato quindi grazie ancora Lo andiamo a provare perché è un gioco senz'altro interessante Ha qualche, secondo me, difettuccio Però è in italiano Ci ritroviamo in una base, insomma una serata di base militare Dove purtroppo gli zombie hanno preso sopravvento Che diamine cos'è questo rumore, la sirena? E praticamente noi ci svegliamo qui e andiamo aprendo le porte Graficamente è abbastanza carino ma grezzo Ma il gioco promette davvero bene So che arrivo in ritardo Perché lo hanno già portato in tanti con video Ma voglio darvi il mio parere Intanto in alto a sinistra potete notare Intanto raccolgo tutto E purtroppo non mi dice che cosa sono questi oggetti Ma io prendo tutto Ammazza la baseball Colgo col tasto E In alto a sinistra, dicevo Potete vedere Un po' di cose Allora dice di mettere le scarpe Stivali da lavoro Tasto destro L'equipaggio Ma in alto Poi non so dove vadano a finire Ma prendo anche lo zaino Infatti lo zaino fa aumentare il nostro inventario da 20 kg a 40 Questo ci sarà molto utile Non fatevi ingannare da quello che state vedendo adesso Perché il gioco diventa tremendamente figo andando avanti Perché Qual è la base di questo titolo? La base è che Noi prenderemo un treno E questo treno Diventerà la nostra casa E con il treno Un po' come Metro Exodus Diventerà la nostra base E potremo costruirlo manualmente Quindi costruendo i vagoni Le pareti I tavoli da lavoro E focalizzandoci sul crafting E il rifornimento Delle risorse Non ce la farò fare in strada con un'auto Devo trovare un altro modo Devo fare scorsa di provviste Ok E prendere il treno Quindi Stiamo prendendo più risorse che possiamo Perché a breve usciremo La parte negativa del gioco Intanto spengo l'allarme La parte negativa del gioco Sono le hitbox E i combattimenti con gli zombie E vi dico subito Perché ho voluto proprio sperimentarlo di persona Un po' come funziona in altri titoli Se morite morite Anche se in realtà ricaricate il save E ripartite insomma Quindi non è che viene cancellato in modo Così punitivo il vostro salvataggio Comunque è molto carino il fatto del Voglio mettere alla prova lo specchio Mentre la porta si apre Ma in realtà lo specchio è un'immagine Già fissa E cosa succede? Adesso andiamo a equipaggiare questo Andiamo a equipaggiare la mazza Vediamo che danno fanno 10 Però fa furtivo 10 per di danno Quindi con questo potremo andare Furtivamente alle spalle dei zombie Prendo anche questo first aid Anche se in realtà Io ne avevo trovati Nelle precedenti partite Per quanto magari alcune cose cambino Ne avevo trovati due Quindi voglio capire Se me lo sono perso in giro Però qua abbiamo guardato tutto Quindi non dovrebbe esserci più nulla Vabbè Andiamo avanti Inizieremo a fare un po' di looting selvaggio Voglio vedere se intanto Vedete in alto a destra A sinistra scusate Sono già due volte Tre volte che ve lo dico Vedete la vita La stamina La fame La sete La necessità di sonno E la furtività Quindi in questo caso Vedete che Se ci muoviamo Abbiamo il 20% Voglio provare a vedere Se riesco a fargli quel danno Che avevamo detto No No Evidentemente no Però le stiamo prendendo E come vedete Le hitbox Non sono assolutamente Nulla di che Perché dovete tenervi Anzi mi trovo più comodo Forse con la mazza Dovete tenervi A una certa distanza E lo uccidete Sono degli zombie Che sono abbastanza Scimmiottati Insomma Non sono presi seriamente Perché sono Come di pupazzi Io so che Andando di là Intanto recupero un po' di roba Perché la merce Che troviamo qui È utilissima Dobbiamo raggiungere Quella zona di là Quindi qua bisogna fare Un bel giro Magari ci metteremo Anche un pochino A correre Adesso Però voglio capire Se riesco a fare Furtivamente Un'uccisione Perché un danno 10x Non è assolutamente male E come potete vedere In alto c'è la durabilità Delle armi Quindi io ora Voglio muovermi Silenziosamente Dietro lo zombie E vedere se riesco a fargli Il danno furtivo Rimuovo Ok E lo uccido Istantaneamente Questo È un bel game changer Perché ci consente Di Evitare Un sacco di problemi Si lutano le casse E all'interno Troviamo Stoffe Metalli Legno Che È utilissimo Perché Dobbiamo Craftarci Tutto Poi all'interno Della base Adesso Intanto io luto E E poi F Per lutare Intanto Lo zombie Lo zombo Non ci sente Si sta muovendo Se ci vede Sono Volatili Amari Nel senso che Se siamo vicini E ci vede È un po' Un problema Ok Ora Lutiamo Anche qui Sto prendendo Tutto Perché Così Potrò farvi Vedere Quello Che Effettivamente Si può Fare Poi All'interno Del treno Il treno È una figata Mi ha ricordato Tanto Anche Il valley Ho trovato Anche una granata Attenzione La metto Qui Perché È una granata Danno Esplosione Ok Abbiamo Una torcia Che prendo Anch'essa E abbiamo Un sacco Di munizioni Ma non abbiamo Ancora Armi Ci saranno Poi le armi Da fuoco Non è Non è male L'idea L'idea Assolutamente Lodevole Di questo Gioco Voglio Lutare Ancora Un po' Prima Di Iniziare A correre Come un Pazzo Perché Arriveremo Anche A quel Punto Perché Io Luto Tanto Ho preso Lo zaino Pensate Che nella mia Prima partita Non mi ero Manco Filato Lo zaino Quindi Quindi io Giravo Se Con lo zaino Questo Mi ha visto Forse No Eh no Questo Mi ha visto Quindi cerchiamo Di affrontarlo Questo qua Corre Potrebbe essere Pericoloso Ahia Questo fa Molto male Quindi Prendiamo Subito La cura Ci mettiamo 5 secondi A curarci Intanto Lui ci fa Il paiolo Ma appena Finiscono I secondi Possiamo Iniziare A Vedere La nostra Vita Risalire Ora Ok Abbiamo posto Fini alle Sofferenze Saltando Giù di là Dovremmo Riuscire Ad andarcene Ma Voglio Lutare Ancora Un po' Voglio Lutare Ancora Un po' Perché Più Più Roba C'è Meglio Dovremmo Poi Rifornire Non si Può Saltare Ecco La cosa Un po' Strana È Questa Vedete Quello Zombie Là Che sta Cercando Di Abbattere La Porta È Dove Dobbiamo Andare Non mi pare Ci siano Automezzi Ma Qua si scende Ma io direi che A sto punto Farei una bella Corsa Dobbiamo Tenerci cara La La stamina Se vediamo Se riusciamo a scendere Senza farci notare Quello ci ha visto Chiaramente Ci ha visto Però io luto Vediamo Un po' Si può Lutare anche Dai mezzi Quello che ho visto Oh Cazzo Niente È giunto il momento Di Di Fuggire Credo Non lì Ma qui Sta finendo La stamina Chiudo la porta Ok E ora Andiamo E arriviamo Al magico Treno Dove finalmente Possiamo lasciare Questo postaccio Ma non prima Di aver Lutato Bene anche Questa zona Questo è il paradiso Dei Luters Allora In sintesi Questo non ce lo apre Ma lo butteremo Ma lo butteremo Ma lo butteremo giù Col treno Saltiamo su Abbiamo Bellissimo Perché ricorda appunto Del Rive Valley Chiediamo la porta Abbiamo il banco da lavoro E qua dietro Abbiamo Il nostro Vagone La cosa interessante È che possiamo usare Il banco da lavoro Per fare una cosa Molto importante Che è il Martello Poi abbiamo anche La chiave regolabile Che non so cosa serve Ah sì Martello serve Per costruire Le cose di legno Quindi in questo caso Andiamo a farci Anche il tavolo Da carpentiere In questo caso Mettiamo il martello Qui Il tavolo da carpentiere Che ci viene prodotto Lo mettiamo qua Quindi a questo punto Prendiamo il tavolo Lo posizioniamo Qui Ad esempio Possiamo ruotarlo Con QZ Lo metto Nella direzione giusta Lo mettiamo qui E poi con il martello Iniziamo a costruirlo Poi ovviamente Potremmo costruire Le pareti Guardate infatti Che cosa ci va A sbloccare Questo tavolo Infatti Il tavolo Usandolo Una volta costruito Possiamo Accedere A una serie Di cose Craftabili Tra cui Il forno elettrico Il tavolo Da sarto Il tavolo Da farmacista Banco Da armaiolo Gramma Forno automatico In legno E La mazza Da baseball Ovviamente La mazza La possiamo Rimettere qui E craftarla Quindi Riutilizzarla A ricraftarla Che ci va a fare Più danno Di quello Che fa già Di suo Infatti Adesso fa 15 Danni Prima ne faceva 10 Quindi fa più danno Dopodiché Possiamo Andare A vedere Vedete Possiamo fare Anche il tavolo Il banco Da lavoro Di metallo Però ci servono Ce ne servono Un po' Quindi Qua non ho ancora capito Perché qua è rosso Quindi vuol dire che ce ne servono 10 Ne abbiamo 7 Qua invece ne servono 3 Ne abbiamo 18 Una cosa del genere Con la palla Possiamo raccogliere la sabbia E appunto Invece di usare Il martello di scarti Dobbiamo fare La chiave Regolabile di scarti Qualora volessimo Creare Appunto Il banco da lavoro Di metallo Quindi Intanto ce la Prendiamo L'equipaggiamo Credo che altro Non si possa fare Con questo martello A parte che forse Ha del danno Ma fa solo danno 5 Quindi È giunto il momento Di lasciare Questo triste posto Qua dentro Non c'è nulla Però ci possiamo Mettere la roba Forse No Sarà da studiare Qua c'è una radio C'è il carburante Direi che in questo caso È giunto il momento Di Accendere il motore La luce Q e Z La spinta Il freno È disattivato E adesso partiamo Si è in automatico Aperta la porta In questo caso Io so già Che posso Prima La prima partita Che ho fatto Ok Anche questo Via La prima partita Che ho fatto Ero un po' nervoso E continuavo A entrare A uscire A controllare Adesso so che Non succede nulla Si va nella zona nuova Tra l'altro Io la prima volta Ero scappato Dal Dal campo A piedi E mi sono fatto Un quarto d'ora Di camminata Prima di capire Che forse Il treno Non l'avrei trovato In fondo alla ferrovia Ma l'avrei trovato All'inizio E infatti Poi ho ricominciato E ho rifatto Infatti questa è A tutti gli effetti La quarta partita Che comincio Possiamo andare dietro E infatti qua Poi avremo Il nostro vagone Che potremmo utilizzare Appunto come base mobile Il mondo Seppur graficamente Non è nulla Di eccezionale Mi piace Non mi dispiace Perché comunque È messo bene Per quanto poi Lì all'interno La foresta Non essendo strutturata In questo momento In questa mappa Per essere esplorata È praticamente vuota È fatta solo Di alberi Ed erba Intanto chiudiamo la porta E continuiamo Il nostro lungo percorso Vedete adesso Il carburante scende Ci sarà un po' Da viaggiare Qua si può distruggere Possono distruggere i vetri Anche poi in realtà I vetri non si distruggono Il gioco è stato Un'autentica sorpresa Perché infatti Non gli avrei dato Molto Diciamo Poi Non era Nei miei piani Acquistarlo Vi ringrazio ancora Ivan Per avermelo donato E lo trovate A 19 euro 18,99 su Steam Ma lo trovate anche Scontato A volte Tipo adesso Dove sto registrando Nel momento in cui sto registrando 25% di sconto Sui 14 euro Non si può saltare Una cosa che veramente Non concepisco Ma si usa per schivare Diciamo la cosa Non abbiamo altro da fare Perché non abbiamo altro da fare Possiamo bere Le bevande energetiche Che ci danno anche più allegria Che non so adesso Che cosa serve Comunque Non abbiamo Abbiamo fasciature Che possiamo usare Ne abbiamo ben 7 Io potrei usarne una Due secondi soltanto E mi curo Quei 5 punti Che mi danno fastidio Lì Anzi tra l'altro Potrei anche pensare Dato che Il martello Non ci serve Mi metto la fasciatura Qua Adesso Stiamo viaggiando Al massimo Della velocità Credo No Adesso si Qua abbiamo L'inversione Per poter tornare indietro E il mondo diventa bellissimo Perché dopo Arriveremo nella nuova mappa Ci sarà il caricamento E poi avremo Un modo di Eccolo qui Di vedere La nuova zona Dove ci fermeremo Al primo villaggio Un villaggio Di pescatori E dove andremo A esplorare Un po' di cose Non so ancora Poi magari Se qualcuno di voi Lo sa Perché c'è già giocato Me lo dica Se gli va Dove si fa benzina Perché non ho proprio Idea di dove si faccia Il carburante Di 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 Questo Di questa locomotiva Per quanto Posso guardarmi Intorno Qui abbiamo Un interruttore Che accende la luce Ma Più di questo Io Non so Onestamente Perché Forse di qua No Non ho proprio Idea di dove C'è la bandiera Spagnola Lì Ma Il carburante Forse scendendo Adesso vabbè Ci godiamo un po' Un po' Il paesaggio Adesso Cercando di evitare Di Cadere Di sotto Perché adesso Arriveremo Là in fondo Dove si vede Là La vedete là Adesso avremo Una brutta curva Sinistra E Arriveremo Là In quella Non è Propriamente una stazione Ma è un villaggio Di pescatori C'è la storia Ovviamente Col personaggio Che parlerà a se stesso Perché non ci sono Altri personaggi Dove dirà Cioè dove Cercherà di capire Il mistero Qual è la storia Di fondo La storia di fondo Che all'inizio È iniziata Un'epidemia Zombie E i primi A esserne Contagiati Sono stati Quelli in città Ed è rimasta Una cosa circoscritta La città Infatti All'inizio Alla partita si vedevano Le grattacieli in fiamme Solo che questo Viveva in questa base Militare Tutto protetto Si risveglia una mattina Non c'è più nessuno Sono stati tutti invasi Degli zombie Allora parte Cerca di scoprire Cos'è successo E si cerca di capire Qualcosa Anche fermandosi In questo Villaggio di pescatori Che stiamo per raggiungere Adesso Dovremmo fermarci a breve Appena Capiamo Dove fermarci Anche perché andando avanti Il carburante finirà Prima o poi Quindi Non ha senso Non vedo niente Da lì Dovrei guardare di qua A breve Dovremmo vedere Il villaggio E poi inizieremo L'operazione Di freno Di frenaggio Frenatura Insomma Del nostro treno Intanto qua Non c'è nessuno Perché non è prevista Che comunque Il giocatore Si fermi qui Ed esplori Questa zona qui Stiamo arrivando Il villaggio è abbastanza lungo Ma ve lo voglio far Godere un po' Perché Comunque Intanto vi ho Vi ho spiegato Un pochino Quello che ho Appreso del gioco La torcia La torcia Non illumina Ma probabilmente È una cosa Che andrà di notte Più avanti C'è un piccolo Di qua Ok Inizio ad abbassare Z Piano E ora Freno E poi Spendiamo Il motore Ok Siamo arrivati Questo gioco Questo gioco Si pare Si pare sta Tantissimo Petallo Petallo Vedete Qua si può prendere Devo rinfoderare L'arma La posso prendere E lo posso lanciare Infatti fa un po' Di casino Intanto Io prima di andare Anzi No Lo faccio subito Perché comunque Voglio andare La A prendere Quelle casse Quindi Speriamo di riuscire A No Merda Cazzarola Vabbè Adesso ti faccio 15 di danno Sono Proprio Brutti Gli zombie Sono Appunto Come ho già detto Scimmiottati Secondo me Comunque Adesso Lutando qui Dovremmo fare Abbastanza Materiali Per Fare quello che ci serve Volevo provare A fare anche Il mobile Di legno Di Di Metallo Cazzarola Un zombie Cerchiamo di Bisogna fare Un po' Di Un po' Di Experience In questo Nel One shot One kill Ci sono anche Zombie più grossi Quindi sono Anche abbastanza Differenziati Eh no Ci ha sentito Ok Ma vanno giù Abbastanza Semplicemente Non ci possiamo Fare niente Con gli zombie Dopo Ok Ogni tanto Poi si trovano Anche in casa Cioè Magari vi state Abituando come me Ad aprire le porte E non trovarne No Ce ne sono Ce ne sono Nelle case Ce ne sono Li trovate Ok La casa La casa La La città Abbastanza grande Là in fondo Se ne vede Uno bello grosso Quindi io farei Una cosa Andare a vedere Anche questa casa Qui E poi andare A ritornare Al terreno Intanto io Riproverei di nuovo Col mio obiettivo Di uccidere qualcuno Su Con un colpo solo Quindi cerchiamo Di non Ok Entriamo in casa Sperando Sia aperto Ok Le altre porte Sono Sono overloaded Sono solo a carico Quindi dobbiamo Andarcene Dobbiamo andarcene Ma prima Voglio dare un'occhiata Cosa c'è qua Se c'è qualche Sì Penda Qua c'è qualcuno E quindi me ne vado Me ne vado Perché non No Uso una benda Vediamo quanto cura Sono a 75 Vediamo se mi riporta A 100 Corriamo Anche se non si dovrebbe 10 Cura 10 La benda Allora Ne uso un'altra Tanto sono overloaded Quindi Di 180 Grammi E andiamo A dare sfogo Alla nostra Vena Caritivo Parcheggiato Proprio giusto 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 Allora Andiamo qua Vediamo se riusciamo A fare il tavolo Banco da lavoro Cavoli Non riesco Perché non riesco Costruirlo Mi servono 10 Di questi E ne ho solo 7 Ertami Non ho recuperato Abbastanza Abbastanza Di questi Vabbè Riusciamo a fare Magari Un Un letto Giusto per Ok Il letto A castello No Non credo Abbia il multiplayer Il gioco Quindi Blu Comunque Intanto Facciamo fuori Un po' di materiali Così Li liberiamo Ok Un po' Mettiamolo qui No Questa Ce la mette lì E questo Ce la mette Ok Mettiamo un letto Il letto Lo mettiamo Magari Qui Lo QZ Lo orientiamo Perfetto E poi Prendiamo Il martello Quello di Per il legno E ce lo costruiamo Voglio Ottenere I I Ottami Per fare Anche l'altro Tavolo E quindi Mostrarvi Almeno L'inizio Del crafting Intanto C'è Un baluba Qui Che non Mi ha Visto E io Però Mi ha Visto Come vi Ho detto Hitbox Discutibile Però Vabbè Insomma Con gli indie Bisogna Sempre Avere Un po' Di Di Comprensione Mi sto Rispetto Allora Intanto Proviamo Andare In quella Che Sembra Essere Una 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 Uno Sfascia Carrozze Ah però Adesso che mi viene In mente C'è dentro C'è lo Zumbicolo Enorme Quindi Non Level up Level up Non so che Effettivi Vantaggi Mi porti Perché Molto Grezza La Grafica L'interfaccia Però Questo Questo è quello Che corre veloce Quindi Eccola Calla Intanto Non mi ha colpito Finora Non ho colpito Io Bende Una E due Ok Andiamo un po' In corsa E vediamo Se riusciamo Quello ci ha visto Quindi Eliminiamo I testimoni Sì Poi iniziate A farci Un po' Un po' Il callo E E capite Che distanza Tenere dagli zombie Io non l'ho ancora capito No Facciamo il giro Da dietro Che se Volevo evitare Perché davanti C'è il gigante E volevo Oh Salve Di qua Ma perché Quattro colpi Questo Vabbè Intanto Speriamo di trovare Almeno Quanti Ne abbiamo Sei Quattro Ottami Di metallo Ancora Non finiscono mai Ce n'è un'altra Ancora Spero Non ne arrivino Altri Sono Particolarmente In un periodo Zombie Questo Tra Zomboid Dying Light Che ho voluto Ricominciare A finire Mi sto Prendendo bene Con gli zombie Vado a periodi Io Come tanti altri Legno Adesso Adesso evito il legno Cerco Per non appesantirmi Eh Però Mi scoggio Allora lì Qui tutto vuoto Vai Entriamo qua Tanto il gigante è là Quindi qui Potremmo entrare Da un'occhiatina Veloce Veloce Muovendoci Furtivamente Adesso lo lascio lì Dentro Le auto Probabilmente Si trova Il Il Metallo Voglio però Vedere Niente Qua non si trova Niente Mi domando Se mai ci saranno Domani i mezzi Ma non credo Perché c'è già il treno Coltello Se riusciamo a far fuori Questo E Certo Colpito L'abbiamo colpito Ma non furtivo Non per avere Tanto da avere Quel 10 Perce 10 perdi danno Ok Prendo un'altra E poi provo a colpire Questo invece Alle spalle Eh Però Merda Tanto l'altro è tremendamente sordo Quindi non ci ha sentito Minimamente Quindi adesso Finiamo la pratica con questo Ci bendiamo Con l'ultima benda Potrei farlo fuori con la Con la granata Ma non ha molto senso Dato che No no L'hitbox è qualcosa Cioè il gioco è bello Senza dubbio L'hitbox è un po' meno Sono onesto Cioè insomma Non è che voglio Raccontare balle Dire Bello è bello Devo mollare un po' di roba Sono Sovraccarico Questo si Ripercuoterà Ripercuoterà Sulla mia stamina E tutto il resto Allora Qua abbiamo un letto No Adesso non voglio Patatine Snack Adesso voglio mangiare Mangio pesce in scatola Bevo acqua C'è qualcuno Ah Questo qua è tutto lo store Si può andare Prevento energetica Ok Vorrei trovare Un medikit Però Antidolorifico Ah ne abbiamo un po' Di antidolorifici Fammi prendere Che mi cura Magari Un po' Vabbè Insomma Pensavo di trovare Più Più metallo Qui Ma in realtà No Neanche qui Niente Quanto metallo ho? 7 Me ne mancano 3 Per fare il tavolo Tavolo di metallo Apro Niente E niente Abbiamo un po' Un'occhiata alle macchine Questo cos'è? No 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 Non mi interessa No Non mi interessa Lì abbiamo un'altra casa Che è quella che abbiamo visto prima Mannaggia Non c'è niente Non c'è proprio niente C'è un'altra casa di là Andiamo di là Vediamo Dai Siamo un po' Faticati Un po' Tanto E abbiamo anche bisogno Di dormire Quindi Premendo la T Vi si apre L'orologio digitale E potete vedere Che ore sono Sono le 16 di pomeriggio No È tutto vuoto Qui è tutto vuoto Qui c'è uno zombo 1 2 E 3 Perfetto Ok Prendo il metallo Fare con Shift E clic destro Ok Me ne mancano 2 adesso Oh Me ne manca 1 1 solo E poi ritorniamo a casa Eccolo lì Questi sono bastardi Ok No No Ok Ok Ogni tanto Ce la faccio Questo è il garage Con uno zombie Ok Dai Un pezzo di metallo Per favore Ti prego Qui dimmi che c'è No ma abbiamo Un antidronifico Sono overloaded E che cacchio Posso dire Che sono Polimere di scarto Mangio La cosa Di fagioli Così mi prendo Questa Munizioni Non ci stanno Va bene Dai Prendi Questo Antidolorifico Ancora Abbiamo un'altra Porta Ad aprire Niente Non Non hanno metallo In questa casa Cioè Mi aveva Praticamente sentito C'è qualcosa Che sbaglio Io probabilmente Nella Nell'approccio Però intanto Ho fatto anche Un altro Livellino Apri No Dai Metallo 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 Secondo me In casa Non si trova Si trovano I soldi Ma Sta diventando Che buio E sta arrivando Un altro Pazzo Maniaco Che mi Che chiudo Dentro Ok La Niente Uno Ma Due Tre Ok Dai No 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 Cioè Me ne voglio Far proprio sudare Sta diventando Un po' Un po' Un po' Ostica Questa partita Perché Sono inseguito Quindi devo Riposare E scappare Forse Lì sotto Mi sta inseguendo Anche più Più di uno Intanto mi riposo E più siete Appesantiti Più è peggio No 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 Dai cazzo No No Lì c'è il ponte Cazzo Stanno arrivando Mamma mia Stanno arrivando Stanno arrivando Stanno arrivando Oh Io ho accumulato Un po' Di Stamina Per scappare Vediamo se qua nel pick up C'è qualcosa No Qui No Opa Che botte Mi stanno dando E niente Dobbiamo andare Assolutamente A dormire Si incastano Nell'ambiente E me fa solo bene In questo caso Non mi la miento Del pathfinding Degli zombie Adesso Uno di metallo Mi manca Stanno arrivando Tutti qua Adesso io provo A scappare sul treno Vediamo se me lo Che cacchio Aia Ma Sono scappati qui sul treno Ah ma mi stanno attaccando Dalla Dalla cosa lì Allora Vai Togli il freno Accendere la luce E vederci Maledetti Sarina Sarina Togli il motore Andiamo a dormire Beh Dormendo qui Non so quanto sia sicuro Ma Dormiamo per Nove ore La prima notte La sveglia suona Io sento camminare Sono tutti qua sotto Quindi io mi prendo Un bel antidolorifico Due antidolorifici E mi metto Anche una fasciatura E sono ancora tutti qua Che mi Mi tampinano Sono tutti Adesso li faccio Eh Mannaggia Voglio dormire Ancora un paio d'ore Perché comunque Ancora buio Voglio vederci bene Ok Intanto mi sono curato Abbastanza Ma non troppo Niente Comunque non ho Non sono riuscito a fare Quello che volevo Me ne mancano Due di metallo Purtroppo Non Non ce l'abbiamo fatta Ragazzi Questo era Zone Pierce Fatemi sapere Che cosa ne pensate Se l'avete giocato Se il gioco vi è ispirato Come l'avete visto in video E se volete Magari farci Una live Fatemi sapere Che cosa ne pensate Qua sotto Nei commenti Alla prossima ragazzi Ah tra l'altro Piccola nota Ho scoperto ora Che con il tasto N Il tasto B Scusate Avete la possibilità Di costruire Infatti Entrando qua Si va al menu Dell'elettricità E anche al menu Della costruzione Quindi adesso Non lo posso fare Ma C'è un menu Che mi permette Di Costruire Eccolo qua Le pareti Le pareti interne Si può andare a costruire Usando legni E rottami Quindi si va a posizionare Vedete Le varie cose Come meglio credete Insomma Si possono fare I vari Vagoni Ecco mi mancava questa Ragazzi Adesso vi saluto davvero Alla prossima Ciao ciao